Questo ragazzo è uno dei tanti studenti che ci seguono qui e su Telegram e ci ha chiesto di commentare quelle che sono le sue foto per Tinder, Instagram e quant'altro. E quindi in questo video ti spiegherò perché le sue foto, e lui è meglio della stragrande maggioranza degli studenti, sono quasi tutte da buttare. Prima di cominciare però ti ricordo una cosa molto importante, ho anche un canale Telegram chiamato Gioio Lorenzo dove ti do informazioni molto molto più avanzate che qui non ti posso dare, quindi vieni a trovare anche lì, link in descrizione. Dunque ragazzi, per prima cosa qui non entro in dettagli in cui mi dilungo troppo in questo video perché non è il luogo adatto, ma su Tinder, su Instagram, dappertutto in generale, le donne capiscono, e questa storia si sa da più di vent'anni, solo due parole, sopravvivenza, quindi capacità di sopravvivenza e di riproduzione. A differenza di quello che la stragrande maggioranza dei coach e quant'altro dicono, infatti mi sembra che i risultati del truffatore di Tinder, per esempio, che sui social utilizzava, o meglio mostrava, grandissimi doti di sopravvivenza, poi fake o non fake da un punto di vista della meccanica, di come le donne sono attratte, poco ci interessa. Oppure, su questa pagina ci sono diversi uomini che erano finiti su un articolo, se non erro, di Cosmopolitan, dove insomma mostrava alcuni degli uomini più matchati. In realtà non ci credo particolarmente, secondo me ce ne sono ancora di più matchati rispetto a diversi che si vedono qui, ma poco ci importa. Tanto per fare un altro esempio, questo è un ragazzo che, a quanto mi sembra di capire, ha fatto su Tinder 80.000 matches e li fa di puro materiale da riproduzione, ok? Cioè ha una genetica molto molto buona, ovviamente, e quindi non solo fa vedere, insomma, come ogni tanto fa delle prank, tipo in questo video in particolare, mostra come in realtà dichiarando di essere 5.7, che non mi ricordo come si dice in centimetri, rimorchia ragazze ben più alte, ma in altri video fa vedere che qualsiasi cosa dice in buona ragazza, le ragazze ci stanno, anche fino ad arrivare a usare frasi super oltraggiose e misogene, tipo Andrew Tate, ok? Quindi, passiamo al nostro ragazzo e vediamo quanto lui è riuscito a giocarsi al massimo queste due caratteristiche, cioè sopravvivenza o riproduzione. Parto da una premessa, ovviamente. Ognuno ha un certo materiale, almeno in questo momento, per sé di sopravvivenza e di riproduzione, ma deve giocarselo al massimo, cioè deve riuscire a trasmettere al massimo, senza fare catfishing, quello che è il proprio prodotto, il valore del proprio prodotto. Quindi il valore del proprio prodotto deve essere percepito al massimo. Ora, permette una cosa, nonostante il ragazzo mi abbia dato il permesso di usare questo materiale, all'inizio mi avesse anche detto non mi importa se mi sgamano, io comunque ho detto no, le foto le oscuriamo e lui mi ha dato il consenso a metterle. Quindi, ovviamente, non ti posso mostrare la faccia, ci mancherebbe altro, però ti garantisco che si tratta di un bel ragazzo. Questa, francamente, è l'unica foto che terrei, perché trasmette sia valore di sopravvivenza, sia di riproduzione. In questa foto lui diviso sembra anche molto bene e è una foto assolutamente non ritoccata, ti posso garantire anche se il tuo volto non lo vedi. Ma passiamo oltre e da qui cominciano i problemi, per così dire. Allora, anzi, ti faccio vedere prima una carrellata di tutte le foto. E torna adesso indietro. Allora, se tu stai guardando questo video, magari se sei alle prime armi, molto probabilmente stai pensando, beh, tutto sommato è sempre in vacanza, è sempre da qualche parte e quant'altro, e quindi queste sono delle ottime foto da mostrare, nel senso che mi faranno sembrare di valore. Ni, anzi no, nel senso che in realtà queste foto sicuramente non lo fanno sembrare non cool, ma non lo massimizzano quanto lui avrebbe potuto. Per carità, dare l'impressione di essere un ragazzo avventuroso, che è sempre in vacanza, e quindi da un certo punto di vista può anche trovare dei ragazzi interessanti per quello che è lo scopo principale di Tinder, cioè arrivare al sesso. Però in realtà non comunica, al di là di quelli che sono i suoi risultati che lui vuole ottenere, che non mi ha precisato nella mail, comunque al meglio, né sopravvivenza né riproduzione. Per esempio, come vedi in questa foto, non sembra particolarmente alto, che ci sta, per carità, molto probabilmente non lo è, ma non rende particolare giustizia la sua altezza o non altezza questa foto. Non è vestito in una maniera che comunica particolarmente la ragazza di trombo, è vestito come un ragazzo normalissimo, ok? E qui stesso identico discorso. Per carità, sembra un ragazzo cool, ma in quelli che sono i limiti della sua genetica, di nuovo, non sembra niente di speciale. E addirittura, non lo voglio offendere, ma, cioè, così ci si veste Bar Simpson, idem con patate. Qui stesso discorso qua. Questo è un po' il tema di tutte quelle che sono le sue foto. Qui, in particolare, l'angolo non è particolarmente lusinghiero per lui, perché lo fa sembrare ancora più basso di quello che è questo ragazzo, evidentemente non è molto alto, ma soprattutto online, dove diverse ragazze ti filtrano in base all'altezza, una mancanza di altezza vogliamo cercare di renderla il meno ovvia possibile. Questo ovviamente non vuol dire mentire, come molte ragazze mi dicono per l'appunto che trovano ragazzi che si dichiarano più alti di quello che in realtà erano, ma neanche buttarselo al culo da soli. Qui, idem, potenzialmente c'era il potenziale, magari per una gran bella foto, però sembra un po' risicato in quest'angolino. E anche qui, francamente, la foto in generale non mi fa impazzire, nel senso che non è particolarmente lusinghiera relativamente a quello che è il suo fisico, rispetto per esempio a questa, dove sembra molto meglio, entrambe a torso nudo, ma qui sembra molto più tirato, nell'altra un po' più cicciottello. Quindi, morale della storia, come vedi questo ragazzo che già ne capisce molto di più, dello studente medio o dell'aspirante studente medio relativamente a quello che potrebbe andare su Tinder, su Instagram e quant'altro, di questa carrellata di foto, in realtà ce n'ha solo una che si salva. E con questo volevo spiegarti come molto spesso gli uomini ottengono risultati inferiori a quelli che potrebbero ottenere grazie ai social, proprio perché purtroppo le foto non sono all'altezza e sono quasi tutte da scartare. Non scappare prima di esserti iscritto al canale e se vuoi avere più successo su app e siti di incontri, ho creato una serie di video gratuiti su questo argomento. In questi video vedrai vari screenshot di chat in cui ti mostro passo passo tutte le tecniche che ho utilizzato per portare ad appuntamenti donne che ho conosciuto su siti app di incontri. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.